Oh, 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 come on, bros! La tua grande forza è l'autenticità Fiena di stile e personalità Cuo'vi che la tua vita sia piena di color Seguendo il tuo suor Brillano le stelle sopra di te Questa è la tua forza e sai perché Infassino il funzione, cresceranno di più Minnie and you Ciao ragazze, come state? L'altro giorno ho preparato qui a casa mia una merenda per i miei amici ed è stato un trionfo totale Guardate quanto è bello questo spiedino di frutta Vi piace? Bene, perché con i consigli di Minnie di oggi vi farò vedere come prepararlo Avremo bisogno di ananas, anguria, melone, fragole, bastoncini di legno un coltello, delle formine e una strapua Ricordate che per questa creazione dovrete usare il coltello quindi chiedete aiuto ad un adulto Per prima cosa attacchiamo un fiocco al bastoncino di legno Così, perfetto E ora con le formine tagliamo l'ananas e l'anguria Premendo forte ma stando attente a non rompere la frutta Così, un cuore perfetto E adesso tagliamo il melone con uno scavino Così, facendo una pallina E stando attente che il melone non si rompa E ora tagliamo una fragola a metà E adesso possiamo preparare lo spiedino Per primo mettiamo il cuore di anguria La pallina di melone Il cuore di ananas E per ultima la fragola È fantastico E la cosa più bella è che potete farlo scegliendo la frutta che vi piace di più Ed è molto sano Guardate com'è bella questa tavola Questa merenda è un'autentica creazione di Minnie Ora sapete come sorprendere le vostre amiche Se volete rivedere come si prepara Consultate il nostro sito disneychannel.it Ci vediamo al prossimo consiglio ragazzi Un bacio